Musica 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 Buongiorno e bentrovati a Mattino 6 Oggi, giovedì 26 gennaio, la Chiesa Cattolica Venera Santito e Timoteo. Apriamo la nostra segna stampa con le prime pagine dei quotidiani regionali. Dal quotidiano dell'Abruzzo, il centro, vediamo l'edizione dedicata a Pescara, in apertura Gentiloni, fatto il possibile. Il Presidente del Consiglio riferisce al Senato sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, il papà di Feniello. Qualcuno deve pagare, trovati senza vita, gli ultimi dispersi. In centropagina la fotonotizia, il racconto dei sopravvissuti in trappola per 58 ore, ci siamo salvati mangiando neve. All'interno consulta il verdetto, bocciato il ballottaggio italicum applicabile ancora sulla diga di Campotosto, D'Alfonso dice tenersi pronti a una possibile evacuazione. L'inchiesta Commissione Valanghe nel Mirino e poi la denuncia, resort esposto del forum H2O sui lavori 2007. I funerali, Loreto diventa un paese in lacrime. E poi l'elicottero, la verità dalla scatola nera, Campo Felice, indagini sullo schianto che ha provocato sei vittime in giornata, le prime autopsie. Il racconto dei colleghi alla base del 118, il giorno dopo vedo l'armadio vuoto e piango. L'elisoccorso torna a volare, sciatore in arresto cardiaco salvato sulle piste di Ovindoli. Nel taglio basso, oggi funerali a Colle Corvino, bimbo muore di polmonite, il piccolo di 10 anni è arrivato in ospedale in condizioni disperate. Poi università, chiesta l'interdizione per rettore e direttore. L'edizione dedicata alla provincia di Chieti invece ha la stessa apertura, anche la fotonotizia in centropagina. All'interno idem, nel taglio basso invece vediamo Chieti, il rettore e il DG da interdire. Il PM chiede la misura cautelare per Di Ilio e Del Vecchio. Edizione dedicata alla provincia di Teramo, vediamo nel taglio basso, nuovi danni in città, la risorgimento inagibile, la scuola elementare lesionata dalle ultime scosse. Poi l'emergenza neve, la beffa dei generatori, gente al buio da 11 giorni. Edizione dedicata alla provincia di L'Aquila, come le altre edizioni, stessa apertura. Cambia quindi il taglio basso, L'Aquila, nuovi controlli sulle scuole, ieri studenti del Cotugno in piazza per la sicurezza. E poi Avezzano, centrodestra in cerca di candidato unitario. Ed ora vediamo il messaggero in apertura, Rigopiano, cimitero di ghiaccio. Si cercano gli ultimi due dispersi, le vittime accertate sono 27, alcuni corpi trovati nel caminetto. I parenti accusano le autopsie, morti causate da traumi e gelo. L'inchiesta, disastro. Comunicazioni e poi la strage dell'elicottero, la fotonotizia in centro pagina, errore umano e nebbia le ipotesi. Sabato intanto i funerali. Un agente scortò in hotel gli ultimi dieci clienti, mentre c'era già la bufera. E poi i piani speciali per le aree colpite dalla calamità in spalla, nel taglio basso. A Pescara, chiusura prolungata per quattro scuole. Ed ora vediamo il quotidiano della provincia di Teramo. La città in apertura allarme è ingiustificato sul terremoto. I costruttori del Lance, le case terramane sono sicure. Solo il 4% ha subito danni gravi dal sisma. E poi scuole sicure in centro pagina. La fotonotizia che titola tutti vogliono i maps, li chiedono genitori presidi e ora anche il sindaco. La riflessione che titola centro Italia in prima pagina e poi ancora energia, si procede casa per casa. Chiusa l'emergenza ma restano i problemi coi generatori. In spalla vediamo il problema, non era la neve, c'era troppa confusione, una delle testimonianze. Poi i sopravvissuti giuliesi, la nostra vita ora ha un sapore diverso. La ricerca nel taglio basso, la storia archeologica di Campli, passata ai raggi X da Mastroianni. Ed ora passiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo il Corriere della Sera in apertura. I titoli quindi dei principali quotidiani. In apertura cambia l'Itali come scontro sul voto. Il verdetto della consulta Renzi. Torniamo in campo. Grillo ora ai seggi. Cautela del Quirinale. Legge elettorale, quindi bocciato il ballottaggio, restano il premio di maggioranza e i capilista bloccati e già applicabile. E poi in centropagina le misure. Trump, il Messico è un muro di 3200 chilometri. Buffera lungo tutto il confine e via alla stretta sui profughi. Il commento in breve. Vediamo i titoli, le scorciatoie da evitare. Poi il caso del sorteggio, le parole chiave e la via d'uscita. Parliamo sempre della legge elettorale. Poi l'intervista a Bersani. Prima le regole e poi le urne. Ha detto Roma, raggi, rischia. Il processo subito chiarirò tutto nel taglio basso. Lo Stato non incassa 14 miliardi di tasse. La Corte di Cassazione, intasata dai ricorsi tributari, sono la metà dei fascicoli arretrati. Vediamo in breve ancora la strategia con l'acido, la forza di Jessica, il cuore con le dita e poi la storia in morte di Walter, medico d'Abruzzo. La Repubblica, in apertura alla consulta, apre la corsa al voto. I tali come la Corte Costituzionale boccia il ballottaggio, sì, al premio di maggioranza con il 40%. La legge può essere subito applicata. PD, Grillo e Lega ora alle urne. Renzi, il futuro torna. In centropagina Nuova America, tutti i muri di Trump, dal Messico alle merci, via al neo-proibizionismo, Wall Street festeggia. E poi in spalla vediamo la cultura dai faraoni internet, ecco perché i nostri libri sono fragili. Nel taglio basso, pagato senza far nulla, chiedo solo di lavorare l'appello. E poi ancora così, 800 bimbi ebrei riscoprirono il sorriso. Passiamo al fatto quotidiano, consulta in apertura. L'Italicum di Renzi è incostituzionale, ora si può votare coi capilista. Sorte boccia il ballottaggio tra liste e affida alla Riffa, la scelta dei pluricandidati. La toppa ancora sui politici incapaci di fare leggi e l'esclusivo. In centropagina Agnelli incontrava i mafiosi. La procura federale della FIGICI accusa la Juve e il suo presidente illeciti con bagarini e ambienti criminali. Vediamo le notizie all'interno. Quindi i titoli, costruzioni pericolose, Trump vara il muro antimigranti, lo faremo pagare ai messicani. E poi la Shoah, la data che l'Italia un po' occulta l'altro terremoto. Gli abusi edilizi hanno fatto crollare l'hotel di Amatrice. L'ex socio di papà Renzi baci dietro gli undici spari, l'ombra della criminalità. Infine, GDF, conflitti e interessi. Toschi premiato dal rettore indagato, poi rinuncia. Il messaggero addio Italicum, scontro sul voto. La consulta boccia il ballottaggio e salva il premio di maggioranza a norma subito applicabile. Renzi alle urne senza strappi, ma il PD è diviso. Lega e Grillo per le elezioni. Berlusconi frena. Rigopiano, ritardi dei soccorsi sotto accusa. Uccisi anche dal freddo lo shock dei sopravvissuti. L'intervista ancora dal Fano che dice Né fretta né menina, ma modifiche per armonizzare Camera e Senato. Raggi, la procura accelera verso il giudizio immediato. Caso Marra, IPM, prove evidenti. L'ipotesi, sospensione. Trump alza il muro con il Messico. Abbiamo visto che Wall Street vola ai massimi storici. Il presidente firma la stretta sugli islamici. Passiamo al giornale. Torna il proporzionale. Parte la corsa al voto. La consulta avara le modifiche alla legge elettorale. Da il via libera. Partiti e coalizioni si spaccano. Servono cambiamenti. Sì al velo e al bando. I tacchi. La cattolica umilia. Le donne nel taglio basso. Il titolo. I laureati fanno la fila per diventare shusha. Il mattino in apertura sempre l'Italicum che è bocciato a metà. La consulta dice no al ballottaggio ma salva il premio. La legge è applicabile. Subito l'inchiesta. Poi la raggi. La procura accelera. Pronti al giudizio immediato. In spalla la sentenza Napoli. Giudice esposito. Intervista vera. Assolto il mattino. Il commento ancora in spalla che titola un salvagente che non basta a galleggiare. E poi in centropagine il personaggio. Addio a Marotta. Una vita per la cultura. Il padre dell'istituto studi filosofici morto a 89 anni. Pendolare in freccia rossa. Dimezzati gli aumenti. La decisione di Trenitalia dopo le proteste. L'analisi che titola i diritti negati se non c'è la concorrenza. Messico e Siriani. Trampalza i muri. Firmata la costruzione della barriera in Texas. Profughi via al giro di vite. E poi Napoli-Juve. Quando la sfida è infinita. I bianconeri battono in Milan. Semifinale di Coppa contro gli azzurri. Ed ora passiamo al quotidiano indipendente. Il tempo in apertura è tornata la prima Repubblica. Bocciato in parte l'Italicum. No ballottaggio. Premio al 40%. Come nella legge truffa del 53. Tutti vogliono andare a votare per non governare. Cancelli cancellati gli ultimi 20 anni. Ecco cosa accadrebbe se si votasse. Oggi lo riporta in grafica il quotidiano. Il tempo. E poi ancora nella capitale. Morire costerà molto più caro. Prezzi raddoppiati e 200 euro di multa. Se la cremazione avverrà in ritardo. Ignorò l'allarme meteo. Il sindaco adesso rischia. Decisiva l'intervista a Il Tempo. E ancora il figlio adottivo. Ora potrà cercare la madre biologica. Lo ha stabilito la Cassazione nel taglio basso. Un seno nuovo in 30 minuti. Ecco l'ultima frontiera della chirurgia estetica. La stampa. Vediamo in apertura. Italicum bocciato. Elezioni più vicine. Renzi. Presto il voto. Coinvolgere Gentiloni. La scelta di Mattarella. Rispetterà la sentenza. In retroscena i titoli. Alfano e Pisapia. Nell'istone dell'ex premier. Poi ancora il Quirinale. Aspetta le motivazioni. Assicurazioni generali. Intesa. Prende tempo. E in spalla Trump firma. Alziamo il muro col Messico. In centropagina. Invece la fotonotizia. Il Papa vince la sfida con i cavalieri di Malta. Dopo un'udienza con Francesco. Gli ultimi scontri. Si dimette il gran maestro dell'ordine. L'unità in apertura. Ora se si vuole. Si può votare. Italicum cancellato il ballottaggio. Resta il premio di maggioranza. E si supera il 40%. Abbiamo visto. La Corte Costituzionale con questa sentenza. La legge elettorale. E di immediata applicazione. E Trump che alza il muro. Stretta sui immigrati. Così il titolo della fotonotizia in centropagina. In SPAL che serve omogenità col Senato. Ceccanti. Voto subito. E una scelta politica. Vediamo nel taglio basso. Iussoli. Il PD. Nessuna intenzione di fare passi indietro. La legge sui nuovi cittadini. E ferma al Senato da un anno. Intanto le regioni approvano il piano Minniti. E ancora tra i titoli. Un anno di verità nascoste sulla morte di Giulio Reggeni. E poi l'evoluzione raggi. Da giustizialista a garantista. Libero. Presi in giro dallo Stato. Terremotati e incazzati. Le ultime del sisma. Protestano a Roma. Tutti i politici scappano. Di Battista l'incontra. Ma prende insulti. Il governo si assolve sull'hotel. Le autopsie lo smentiscono. Soccorsi tardivi. Qualcuno poteva salvarsi. Questo così cambia. L'apertura di Libero. E poi in centro pagina. Niente processo. Lapo innocente. Non organizzò alcun finto rapimento. O non si va a votare. O si vota col bordellum. Due leggi diverse. Tra Camera e Senato. E ancora. La borsa non è snob. Record a Wall Street. Trump manda a K.O. Tutti gli economisti nel taglio basso. Sequestri omicidi. Signore diffidate. Dal giovane amante. 22enne segregata. Da due mesi. No. Scusate. Un 22enne segregata. Due mesi. Una 53enne. E un illusione. L'amore. Su internet. L'aveva conosciuta quindi. Su internet. E' stata segregata. Per due mesi. Avvenire. In apertura il fatto. La Corte rifà la legge. Italia con bocciato il ballottaggio. Resta il premio per i partiti. La sfida di varare. Regole omogenee. In centropagina. Trump è ancora di parola. Più muro. No. Ai profughi. E poi. Il gazzettino. La consulta. Si può votare subito. La Corte Costituzionale boccia il ballottaggio. E salva il premio di maggioranza. Legge elettorale. Applicabile. In centropagina ancora. Trump. Galza il muro col Messico. Wall Street vola al record storico. E la storia. Vedova prigioniera per due mesi del baby fidanzato Aguzzino. L'inchiesta nel taglio basso. Titola. Pompe bianche. La grande truffa. Evase tasse accise per 26 milioni. Venduti 400 milioni di litri di benzina in nero. Il secolo XIX. Italicum. A pezzi. Pressing voto. Renzi. Movimento 5 Stelle. Lega. Vogliono le urne. L'ex premier. Va coinvolto. Gentiloni. La consulta quindi dice no al ballottaggio. Si al premio del 40%. Legge subito applicabile. In breve Trump che firma l'ordine per il muro con il Messico. In centropagine invece la secessione degli chef Liguri. Così il titolo della fotonotizia. Un'associazione contro la star dei talent. Chissà in tv non ci rappresenta. Hanno detto. Genova. Braccio di ferro. Mercato del pesce. Incubo. Serrata. E poi il buongiorno del secolo XIX che titola Viva i traditori. La gazzetta del mezzogiorno apre con ritorno alla prima repubblica strada spianata per la legge elettorale proporzionale via alle manovre. Renzi, Grillo e Salvini elezioni subito ma il fronte del no. Contrattacca in spalla la regione e fa i conti coi debiti dell'irrigazione. Si parla della regione Puglia e ancora Rigopiano morti per freddo e asfissia. Gentiloni elogia i soccorritori pronto a un nuovo decreto per fondi pro terremotati. In breve i migranti stop alle partenze dalla Libia. L'Unione Europea ha un piano e poi usa nuova linea. Muro col Messico e stretta alle frontiere. Trump fa sul serio. La verità, vediamo in apertura lo scontro nella consulta, poi la sentenza. I giudici resuscitano Renzi, così il titolo sulla legge elettorale. E poi sentenza europea non si affitta un utero per avere un figlio come ha fatto Vendola. In spalla, ora il blocco navale lo vuole fare Bruxelles e ancora i francesi rubano la casaporte d'Italia. Generali e i suoi 70 miliardi di debito pubblico stanno per cadere in bocca a Dax. Grazie a Negri, immigrati e finanza. Trump fa ciò che promette. Wall Street prende il volo. E poi le telecronache sovietiche. Chi ama il calcio non sa più quale tasto schiacciare. Nel taglio basso, Scorsese era da Oscar, ma parla di Cristiani, rompiamo il silenzio sul capolavoro. Il sole 24 ore che apre con la notizia riportata da tutti i quotidiani finora e quindi con Wall Street al record, superati i 20 mila punti in risalita, balzo del rendimento del BTP al 2,12% e poi generale. L'intesa studia l'UPS, Trieste aggiorna il business plan, spazi per una crescita dimensionale. Ed ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Luca Mennella di InMeteo.net. A tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Mattino 6. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani regionali e quindi alle notizie riportate. Iniziamo dal centro, abbiamo visto la prima pagina, entriamo all'interno, si parla di Rigopiano. Il governo Gentiloni ha detto fatto tutto il possibile. Premio in Parlamento, lo Stato ha mobilitato ogni energia, protezione civile è all'avanguardia, sono in arrivo nuove risorse. Nel taglio basso i parlamentari abruzzesi, grandi rischi è nella resa dei conti, Pezzopane, Sottanelli, Melilla e Tancredi all'attacco dei vertici. E distruzione, utenze ricollegate, numero verde per i guasti. Trovati tutti i morti, gli ultimi dispersi, speranze finite. La maggior parte delle vittime era nell'area bar e su Facebook. Simona Di Carlo accusa la provincia. In centro pagina invece Loreto diventa un paese in lacrime, folla commossa ai funerali dei coniugi. Nadia e Sebastiano il dolore dei tre figli. Su questo articolo ci fermiamo, appunto perché ieri si sono svolti i funerali dei due coniugi. Vediamo quindi il contributo video di Paolo Renzetti. Almeno 3.000 persone hanno partecipato questa mattina al palatenda di Loreto Aprutino, alle sequie di Sebastiano Di Carlo e Nadia Conciamessa, morti nel disastro dell'hotel Rigopiano. Oltre a tantissimi cittadini presenti le autorità regionali, fra queste anche il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. C'è bisogno di tanta prevenzione, c'è bisogno di normative certe che diano regole tali che facciano vivere i nostri cittadini in sicurezza. Ovunque essi si trovano, la regione si stringe intorno al dolore di questa giovane coppia, dei loro figlioli, di tutti i familiari della comunità di Loreto, ma soprattutto alla comunità abruzzese che sta vivendo momenti, giorni, oramai settimane. Presidente, questi sono giorni di dolore, però prossimamente bisognerà cercare di capire, e c'è un'inchiesta aperta dalla magistratura, se tutto questo si poteva evitare e se tutto ha funzionato a dovere. Certo, una cosa va detta, non è più possibile accettare alcuni comportamenti, non è più possibile non avere una normativa che faccia in modo tale che la nostra regione ridivendi una regione sicura, accogliente e soprattutto che i cittadini possano vivere con serenità e fare un proprio futuro, vivere un proprio futuro in questa nostra bellissima regione. Non è mancato poi il ricordo della coppia da parte di un amico di famiglia, Piero, che ha mandato un pensiero anche al piccolo Edoardo, rimasto senza i suoi genitori. Sebastiani e Nadia erano una famiglia perfetta, una famiglia granitica, sposati da sempre, li portai io in macchina al loro matrimonio. L'ultima c'era insieme il 19 dicembre, il giorno del suo compleanno, a casa loro c'erano anche Piero e Barbara, purtroppo di cui ci toccherà celebrare i funerali i prossimi giorni. È una persona di una disponibilità e di un'allegria unica. Nadia, una grande professionista, lavorava in ospedale a Penna, nel reparto analisi, è una persona disponibile, gioiosa, mai un'incazzatura, mai una cosa fuori luogo. Poi c'è questo dramma di questo bambino di otto anni rimasto senza genitori. Edoardo, credo che, per quello che ho potuto vedere, ieri sera è venuto qui a fare un omaggio alla mamma e al papà, è un ragazzino di una forza, ha depositato una rosa sulle bare con il nonno, ha spiegato che purtroppo questa tragedia gli ha portato via la mamma e il papà. Lui ha calessato le bare, è stato un momento... Un momento molto toccante, però devo dire una forza di un ragazzo fuori dal comune. C'è dieci anni e la consapevolezza che dovrà farcela insieme ai fratelli e con un mare di amici e parenti, se permette, anche di noi. Dolore, ma anche la volontà di affidarsi alla volontà divina. Queste le parole di Don Andrea Di Michele, che ha ufficiato la cerimonia funebre. Penso che due aspetti sono sempre da sottolineare in questo momento. La vicinanza, il silenzio, il rispetto, l'attenzione alla persona che soffre e poi la preghiera, il fatto di credere in Cristo risorto e l'annuncio della fede. Andiamo avanti, vediamo nel taglio basso l'allenatore del Pescara. Oddo ricorda l'amico scomparso, Roberto, autore di Un Paradiso, ha detto. Roberto Del Rosso, si tratta di Roberto Del Rosso, amministratore dell'hotel di Rigopiano. E ancora, Rigopiano, le storie salvi grazie alla neve e alla voglia di farcela. Giorgia Galassi e Vincenzo Forti, fidanzati scampati al crollo dell'hotel, raccontano le 58 ore trascorse al buio tra le macerie del Rigopiano. Ieri pomeriggio a Giulianova si è svolta la conferenza stampa. Ascoltiamoli. Quando siamo arrivati ci hanno bloccato al Bivio Mirri, tra Farindola, per andare a Rigopiano. Ci hanno bloccato la polizia locale. Ci hanno detto che dovevamo aspettare che passasse lo spazzaneve e quindi che ripulissero le strade. Abbiamo aspettato all'incirca un'ora, un'ora e mezzo. Sono arrivati gli spazzaneve e poi siamo saliti. Abbiamo trascorso la notte e il giorno dopo comunque si erano tutti quanti agitati, già prima per la neve, ma poi quando è successo che ci sono state delle scoste di terremoto. Ci siamo tutti molto più spaventati che ovviamente si sentiva tantissimo e ce ne volevano tornare tutti quanti a casa, anche chi magari aveva prenotato per vari giorni. Quindi stavamo tutti quanti nella holla ad aspettare lo spazzaneve che poi dovevamo accodarci a lui e riscendere. Sì, loro ci hanno detto di stare tranquilli, di stare tutti quanti nella sala del tè dove stava il cammino e che quando passava lo spazzaneve ce ne potevamo tornare a casa. Solo dopo un po' è arrivata una comunicazione che molto probabilmente non si sapeva se passava, l'ora che passava, quindi di organizzarci per dormire in quella stanza, perché ovviamente tornare nelle camere era pericoloso per il terremoto. Però noi non abbiamo mai pensato che fosse una valanga. Noi fino a quando non abbiamo parlato con i soccorritori pensavamo che fosse un terremoto molto forte. Allora, praticamente noi eravamo seduti vicini sopra un divanetto di vimini e stavamo prendendo il tè. E a un certo punto, in tre secondi, ci siamo lì trovati sotto. Non abbiamo capito niente, veramente niente. E da lì per sopravvivere, è vero che riuscivate a prendere della neve, del ghiaccio? Sì, avevamo del ghiaccio intorno e quindi ci nutrivamo di quello. Per fortuna che ce l'avevamo. C'era anche Lorenzo Fegnendo? Lo sentivate a voi in posto? Stefano. Non l'avete mai sentito voi? Quindi solo voi tre eravate in quella sorta di cazzola che si è creata? Sì, ci siamo aiutati tanto a vicenda perché se no non ce la facevamo. Poi lui ha anche aiutato pure non solo me ma anche l'altra ragazza, gli dava qualche parola di conforto. Di sostegno. E ovviamente ogni volta che lo prendevo per me la metà era per lei. All'inizio con la luce del cellulare sì, poi non ci vedavamo più, era tutto buio. All'inizio tanto freddo non c'era perché c'era vicino il cammino diciamo, poi nel trascorrere delle ore sì. Io ho sentito freddo. Lui tremava. Allora la frase che più mi sono ricordata è stata, noi siamo qui e non ce ne andremo finché voi siete fuori. Senza di voi. Senza di voi noi non ce ne andiamo. Io. Allora quello che posso dire io è che la mia forza è stata lui. Cioè nel senso che lui ogni volta che io cercavo di mollare lui mi tirava su. E quindi. Cosa ti diceva Vincenzo? Perché anche tu ricordava? Di stare tranquilla, poi mi abbracciava. Cioè nel senso che già la sua presenza per me era importante perché io so lui che carattere ha. Lui è molto forte. Volete mandare un messaggio ai vostri cittadini? Allora io ringrazio tutta la mia città, tutti i miei amici, la tua famiglia, voi tutti che veramente per me siete come una seconda famiglia, voi lo sapete. Ci hanno confortato tanto questo paese. Grazie. Andiamo avanti. Nel taglio basso il calcio piange di Pietro, l'allenatore gentiluomo ha fatto grande il lauretum funerali con la moglie Barbara. Il papà di Stefano ucciso invece dalla valanga, Feniello contro i politici, adesso voglio giustizia. E poi ancora ecco la famiglia miracolata, nella foto li vediamo, Giampiero Parete insieme alla moglie e ai suoi due figli, tutti scampati alla catastrofe dell'hotel Rigopiano. Si sono salvati in quattro il cuoco che ha dato l'allarme sommerso dalla neve. E poi nel sommario vediamo ancora le parole di Giorgia, l'abbiamo sentita prima in conferenza stampa, mi dispiace per chi non ce l'ha fatta, ha detto mi sento morire se penso a Francesca. Vincenzo invece mai ha abbandonato la speranza che qualcuno ci avrebbe tirato fuori. Rigopiano l'inchiesta, commissione valanghe cancellata da 12 anni, scattano i sequestri a Farindola nei verbali gli allarmi sottovalutati. E poi ancora la denuncia, a parte l'esposto sul resort, indagate sui lavori del 2007, il forum H2O porta gli atti in procura. Una valanga c'era stata anche negli anni 30, De Sanctis sotto accusa anche un'omissione della regione mai fatto, il piano Slavine. I geologi invece è stato un evento eccezionale, hanno detto. E poi mappa delle aree a rischio, non ci sono i soldi, sul sito della protezione civile Abruzzo compare l'annuncio fondi esigui per il censimento delle zone montane. Lo ha detto Mario Mazzocca. La tragedia del 118, poi dalla scatola nera, la verità sui sei morti, recuperato sul monte Cefalone a Campo Felice, registratore di volo dell'elicottero. Entro 15 giorni la decodificazione dei dati, oggi autopsie su pilota e tecnico di bordo. E anche su questa brutta notizia, l'ennesima tragedia che in pochi giorni ha colpito il territorio abruzzese, vediamo il contributo video di Daniela Rosone. Solo l'esame della scatola nera chiarirà il motivo dell'incidente che ha visto ieri precipitare l'elicottero del 118 in località Campo Felice, ma probabilmente sono state le proibitive condizioni meteo a provocare l'accaduto. E così l'Aquila piange sei vittime, due delle quali reduci dal gelo della tragedia di Rigopiano. Volavano per recuperare uno sciatore con una gamba rutta sulle piste ad asci di Campo Felice. Erano riusciti a trasportarlo in elicottero e si dirigevano verso il San Salvatore dell'Aquila per le cure allo sciatore romano, anche egli vittima dello schianto. Scarsa visibilità, potrebbe essere questo il motivo. Fatto sta che già è stata aperta un'inchiesta dalla Procura della Repubblica, coordinata dal sostituto procuratore Simonetta Ceccarelli. Il velivolo si è schiantato su un monte Cefalone, a circa 2000 metri di quota, nel territorio del comune di Lucoli. Il boato è stato fortissimo, tant'è che sul posto sono accorsi molti abitanti e anche persone direttamente dagli impianti sciistici. Il velivolo era un AV139, era partito dall'Aquila e avrebbe lanciato anche il segnale di crash mentre era nei pressi di Casamaina. La macchina dei soccorsi è scattata subito, ma è stata resa ancora più complicata a causa delle pessime condizioni climatiche. Per raggiungere il punto esatto dell'incidente alcuni soccorritori si sono arrampicati a piedi, la zona infatti è molto impervia e da lì di nuovo a piedi per recuperare le salme e riportarle giù sempre sulle barelle. La zona è sotto sequestro e nella notte appena trascorsa anche la strada statale circostante è stata presidiata. Al San Salvatore poi il dolore degli amici, dei colleghi, dei familiari. Un destino tragico che si incrocia a quello della tragedia di Rigopiano. Davide De Carolis, per esempio, del soccorso alpino, era stato uno dei primi ad arrivare a Farindola e ad estrarre dalle macerie e dalla neve dei sopravvissuti. Così come si incrocia a questa tragedia quella del dottor Walter Bucci, medico amato e stimato da tutti all'Aquila, che a Rigopiano era corso per prestare servizio. Accanto a loro c'erano Peppe il gigante Buono, Giuseppe Serpetti, infermiera Aquilano, Mario Matrella di Foggia, tecnico di volo ed esperto del verricello, Gianmarco Zavoli, il pilota di Rimini e Ettore Palanca, l'osciatore di Roma, che si era fatto male procurandosi la frattura di Tibi e Perone. Tantissimi messaggi di cordoglio giunti da ogni parte d'Italia, da associazioni, da colleghi, dal volontariato, dal presidente della Repubblica Mattarella e da tutte le principali cariche dello Stato. Il sindaco Cialente ha già annunciato che nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino all'Aquila. Un momento duro per la città, scossa dalla terra e da questa tragedia immane che ha colpito persone che erano conosciute da tutti e che per tutti prestavano la loro opera con professionalità ma anche con profonda umanità. Sarà difficile reagire in una terra che sta pagando un prezzo troppo alto, ma loro erano lì perché dovevano e perché amavano il loro lavoro, stanchi magari dopo aver scavato o soccorso, ma sempre al servizio degli altri. Oggi non potranno baciare più mogli e bambini, che non li vedranno tornare a casa. Un sacrificio alto, troppo alto forse, nobile. Per l'Aquila non è il giorno dei se, dei ma e dei perché, ma è il giorno del dolore, troppo profondo da rimarginare in questo momento. E come ha ascoltato, quindi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto due parole sull'accaduto e potrebbe presenziare i funerali delle vittime del soccorso che si svolgeranno forse sabato. Intanto saranno eseguite oggi all'ospedale di L'Aquila le autopsie sul pilota e il tecnico di bordo. Vediamo ancora su questa notizia. Mi aveva chiesto di cambiare il turno, parla il dottor Scarsella nella foto, il collega di Walter Bucci, il medico morto nello schianto dell'elicottero. Il racconto dei colleghi poi alla centrale il giorno del lutto, vedo l'armadietto vuoto e piango. L'elisoccorso di nuovo sulle piste, a Ovindoli in malore per uno sciatore salvato dopo un arresto cardiaco. Ed ancora sulla tragedia del 118, a Roccaraso e a Ovindoli, medici a tempo pieno, Pratello, Pizzalto e Aremonia, presidiate dalla Croce Azzurra per tutto il giorno, sulla Magnola, la Croce Rossa, Passo Lanciano e Pratiditivo, situazione critica. Il titolare della Campo Felice, Lallini, abbiamo il presidio medico, l'ambulanza è a Rocca di Cambio, diamo lavoro a 250 persone. Queste quindi tra le testimonianze. Passiamo alla Campo Tosto, la diga d'Alfonso contro l'Enel, aggiornare i piani. Il governatore avverte, tenersi pronti a una possibile evacuazione, si lavora un'ipotesi di riduzione di 20 milioni di metri cubi di acqua. Incontro con i dirigenti dell'azienda e del ministero, i sindaci chiedono chiarezza anche sulle informazioni ai cittadini. Controlli valanghe, polemiche, mercante del Movimento 5 Stelle chiede l'iscrizione a Ineva, la regione abbiamo già Meteo Mont, ha detto, mazzocca. Turismo e maltempo, Abruzzo in ginocchio, immagine compromessa, gli operatori puntano l'indice contro l'enfatizzazione delle notizie, alberghi vuoti, malgrado funzioni tutto, assemblea urgente della CNA. E poi ancora nel taglio basso vediamo le maglie del Pescara e dell'Inter in vendita all'asta per solidarietà. Il sacerdote in tv dice, venite in vacanza al nord, le frasi di Don Bruno Fasani diventano un caso, in regione monta la polemica e la protesta anche sui social. Subiamo danni indiretti, il sindaco di Roccaraso contro il prelato terrorismo mediatico, in rivolta anche ai maestri di sci e ovindoli, così ci tagliano le gambe. E la condivisione sui social vuole aiutare l'Abruzzo, ecco una notizia su come poter fare qualche donazione. Politica, il verdetto, bocciato il ballottaggio, italicum applicabile, l'abbiamo visto la consulta che non ammette il secondo turno, restano le pluricandidature, legittimo il premio di maggioranza al partito che supera il 40% dei voti. Ed ora passiamo direttamente alla prima pagina dedicata alla città di Pescara, infezione fatale, muore a 10 anni, ucciso dalla polmonite, il piccolo Alessio di Colle Corvino è arrivato in ospedale due giorni fa, il cuore del bimbo si è fermato più volte ed è stato rianimato oggi i funerali. E ancora la ragazza di Montesilvano, un mese fa la scomparsa di Elena, famiglia e amici la ricordano oggi con una cerimonia. Povertà, c'è un fondo da 490 mila euro, il comune assicura aiuti alle famiglie disagiate con un minorenne, un disabile o una donna incinta. San Giovanni Teatino, ascensore bloccato, chiamati carabinieri e morto, Iannascoli, pilastro del calcio in città, l'ex dirigente della Virtus Pescara. Geriatria, torna il caos a Pescara, ma sono le famiglie a scaricare gli anziani di nuovo i letti in corridoio, nel reparto superintasato, il direttore sanitario e i medici di base rinuncino ai ponti. Ruba le protesi dentali, arrestato in via Ferrari, il giovane preleva tre pacchi nel furgone di un corriere espresso. Bufera sull'università, chiesta l'interdizione del rettore del DG, di Ilio e del Vecchio, saranno interrogati domani dal G. Pacchietti, il PM li accusa di abuso e falso ai danni del prof Capasso. E poi la cerimonia, oggi si inaugura l'anno accademico, ancora alberghiero chiuso altri due giorni, riaprono le scuole, tranne Cuppari di Villanova, a Marconi e Mario De Fiori di Penne. Il mondo dello sport si mobilita interpescare, a partita solidale, come abbiamo visto prima, le maglie dei giocatori all'asta per l'Abruzzo, colpito dalle calamità. E l'intervento dei Vigili del Fuoco, vediamo in breve in via Mazzini, cadono pezzi di cornicione. Addio ad Angelozzi, la pittrice allieva di Tommaso Cascella, aveva 82 anni, era di Civitella, ma viveva a Montesilvano, questa mattina alle 11 funerali, nella chiesa di Via Cavour. E vince 56 mila euro con la Coppa d'Africa, all'Eurobet di Montesilvano, Fondazione Pescara Abruzzo, concorso russi, oggi la borsa di studio. Montesilvano in apertura ai danni del maltempo, basta emergenze, adesso subito fondi per prevenire, il sindaco fa il punto su Frane, allagamenti, disagi dal colle a lungo fiume, emergenze da non ripetersi, vanno trovate le risorse per interventi definitivi. Arranalli, Villa Carmine, odore di gas in due quartieri, paura e controlli, falso allarme. Sempre a Montesilvano, protezione civile per i giapponesi, una delegazione ospite della Misericordia, studia i sistemi di gestione italiani. Porto, lavori fermi, così rifiuti e ruggine, divorano il cantiere a Francavilla, cancelli di Velti e vandali in azione nell'area, eppure sono stati spesi 2 milioni e annunciati altri 2,5. Inquilini morosi senza colpa, pubblicato bando per il fondo, Francavilla, libri di scuola gratis, domande entro il 31, San Giovanni Teatino, tagliate le piante a rischio crollo, ordinanza del comune per i proprietari di alberi danneggiati. Emergenza superata, arrivano gli spalatori dalla Lombardia a Caramanico Terme, il sindaco soddisfatto del Piano Neve, evento straordinario, ora dobbiamo ritrovare la normalità. Il sindaco di Penne, Bene Gentiloni, ora seguono i fatti. Pianella vuole la scuola 4.0 dell'area metropolitana, progetto in corsa al Ministero, Popoli, Presidente, ci lasci l'ospedale, lettera a Mattarella dopo i recenti eventi, i cittadini hanno paura, l'appello di due consiglieri. Tocco da Casauri, è un club per appassionati fungaioli, nasce l'associazione micologica causoriense con 28 aderenti. E poi vediamo, prima di vedere la pagina sportiva, scusate, passiamo al messaggero, abbiamo visto sia la prima pagina del nazionale e anche la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. entriamo all'interno, vediamo qualche notizia nelle pagine interne appunto del quotidiano Il Messaggero, vediamo di trovare direttamente la pagina dedicata alla provincia di Pescara. Entriamo all'interno, quindi pagina dedicata a Pescara che apre con via alle cause per luce, acqua e gas, dopo la bufera, i lunghi blackout hanno danneggiato famiglie, imprese, codici, guida la battaglia, l'associazione codici guida la battaglia contro le società di gestione dei servizi, esilienti, informa l'associazione di difesa dei consumatori, sono tenuti a risarcire automaticamente i cittadini. E la bomba ecologica, bussi legali di Edison contestano le accuse, la tragedia, polmonite, muore il bimbo di dieci anni, l'anniversario a lui e la mamma e il dannunzio più tenero nel centenario della morte di Luisa Pierluigi Francini, nipote dell'amico del Vate Luigi D'Amico, esibisce i suoi cimeli. Il concerto, la classica di Elio, questa sera al massimo. Entriamo all'interno, una cappa di dolore, pesa sui nostri cuori per Sebastiano e Nadia, il funerale dei congi di Carlo, il parroco Don Andrea, ricorda anche le vittime della tragedia di Rigopiano. L'altra coppia, e ora l'attesa, è per Piero e Barbara. Mezzi pubblici nel mirino, gomme squarciate, nuovo rai da bussi, andiamo ancora avanti, pagina dedicata all'Aquila, all'emergenza, allarme, la grandi rischi, aggiusta il tiro, nota del Presidente, impossibile prevedere con precisione, ma confermiamo l'impianto interpretativo della sequenza. Marcia indietro sui problemi per la diga di Campotosso, nessun effetto vaiont, frase estrapolata dal contesto. Le scuole, vulnerabilità delle scuole, se ne occuperà, le Lewis andrà avanti a oltranza, la rivolta del Cotugno. E ancora l'inchiesta, ricostruzione, scovato un altro furbetto, avrebbe attestato il falso, la finanza denuncia un aquilano e sequestra 420 mila euro. Nell'Alto Aterno, in breve, Campotosto, prosegue svuotamento del lago. E ancora attentato incendiario in via dei Sabini, distrutti due camion, ad Avezzano, gli attentatori hanno gettato il liquido infiammabile nelle cabine dei mezzi e poi hanno appiccato il fuoco. Morì dopo il coma, nominato il perito, Avezzano ancora amministrativa e congresso dell'Udc, Cocullo, il ritiro dei serpari è in nomination. Avezzano ancora contributi aziendali, Casale, Striglia, L'Inps, Sulmona, inchiesta Fenice, scatta l'ottavo arresto, l'anticrimine procede alla denuncia di due giovani per il pestaggio di due donne. E l'evento, il pescasseroli oggi ricorda Ettore Scola. Chieti di primio, appello a Gentiloni, subito i soldi per l'emergenza, per la scuola, strade, frane e alberi caduti, servono 10 milioni, i costi del piano neve da ieri messa in sicurezza del cimitero e interventi per riparare via Salomone. In Spalla, Ortona, emergenza passata, ma ci sono disagi per acqua e corrente. Tribunale, Tessa arriva il 30 in procura, l'insediamento forse a febbraio. Ospedale, Cardiologia e Utic lasciano il policlinico, la sala parto si sposterà al nono livello. Vasto, vetri rotti alla guardia medica, agnovi la sanità e in Frantumi, Lanciano, solo 10 gradi in aula, proteste a Galilei, senza luce per giorni, il sindaco Popillo ha dato mandato all'ufficio legale per presentare un esposto in procura. Teramo, il presidente Lanciotti sotto processo per usura, è stato appena eletto leader della Camera di Commercio, l'inchiesta riguarda il ruolo nella banca di credito cooperativo. L'allarme, lieve malore per il prefetto Graziella Patrizzi, nella foto ora tutto ok. L'incidente, pompiere ferito, troppo lunga la ricostruzione. L'emergenza, scuola, Brucchi vuole i moduli provvisori. Giulianova, ascisce e cocaina in casa, arrestato dai carabinieri. Giulianova ancora, il PD boccia la rotamazione delle cartelle. Ed ora velocemente torniamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo qualche notizia all'interno del quotidiano appunto. Abbiamo visto la prima pagina e subito nella pagina successiva, il soccorso mortale, recuperata la scatola lena dell'elicottero precipitato dalla registrazione dei dati di volo e dall'audio in cabina, verrà ricostruita la dinamica dell'incidente. Li vediamo nella foto, Walter Bucci, Davide De Carolis e Mario Matrella. Tra le sei vittime, i soccorritori, gli svizzeri ripartono per il canton Ticino. C'era disorganizzazione dopo aver liberato Castelli e i prati di Tivo con una maxi spedizione costata a loro appena 30 mila euro. Vediamo ancora 26 vittime all'hotel Rigopiano, 27 scusate, nell'hotel travolto dalla Slavina si scava ancora per gli ultimi due dispersi. Passiamo avanti dopo il terremoto, allarmismo ingiustificato sulla solidità delle case, l'associazione dei costruttori Ance Teramo, appena il 4% del patrimonio immobiliare teramano, ha subito danni gravi dal sisma. Urgente l'attivazione dell'ufficio speciale per la ricostruzione, per dare informazioni qualificate, corrette e trasparenti alla cittadinanza, ai tecnici e alle imprese. Nel taglio basso, dopo le scosse, riapriamo i termini per i sopralluoghi, la proposta dell'ordine provinciale degli architetti. E ancora scuole sicure, Brucchi apre i maps, chiesti anche dai genitori, la risorgimento dichiarata inagibile, anche i presidi preoccupati dalle affermazioni della Grandi Rischi. Riprendono intanto i voli per portare aiuti agli allevatori, dopo il fermo per il meteo, gli elicotteri impegnati nel trasporto di 12 tonnellate di cibo. Pompiere svizzero, ferito a Pietracamela, sbarra di ferro in una gamba, mentre libera i tetti delle abitazioni dalla neve. Bisenti, non posso chiedere aiuto per l'assenza del segnale, incidente tra un camion e una macchina, soccorsi allertati, grazie ai passanti. Blackout, è nel proseguo i riallacci dell'energia casa per casa, chiusa la fase dell'emergenza, avanti con la sostituzione dei generatori, ancora problemi nelle frazioni. La SEA lascia una turbofresa a Montorio, il mezzo aeroportuale è stato donato dopo l'emergenza. Situazione drammatica sulle strade provinciali, viabilità compromessa da buche, smottamenti e alberi pericolanti. Nel taglio basso, la CONA trattata come quartiere di serie B, il comitato, Domenico Bucciarelli nella foto, interviene sul piano neve e sui disservizi dell'Enel. Teramo ancora, usura bancaria, vertici BCC Adriatico a processo, Macella, Lanciotti e Cenzoni, accusati di aver applicato tassi superiori ai limiti di legge per un mutuo. E ancora, vediamo l'accordo dopo nel centro-destra a Trentino, civiche partiti assieme alle elezioni, ma Marcello Monti si chiama fuori lotta 2, quindi a Martinsicuro sono gli stessi Vagnoni e Tomolini, nomi in poll, come candidati sindaci del centro-destra. L'accoglienza, studenti di Valle Castellana, a lezione negli istituti di Martinsicuro, Sant'Egidio, l'arbitro tagliavento, visita il maglificio, Gran Sasso, Campli, di Campli si scappa dalla neve, dalla frana, l'ondata di maltempo ha contribuito a spopolare ulteriormente la piccola frazione. E adesso la nostra vita ha un sapore diverso, così Giorgia Galassi e Vincenzo Forti incontrano la stampa per raccontare le drammatiche ore a Rigopiano. Abbiamo visto, in l'ordinanza, nel taglio basso, campo della fiera chiuso per soccare i generatori dell'Enel. Ancora Giulianova, il PD boccia la rottamazione delle cartelle, la decisione sancisce, lo strappo con il sindaco Francesco Mastromauro verso il bilancio, il siruro fa suonare le sirene d'allarme sulla tenuta della maggioranza priva dell'approvazione. L'ordinanza, ancora Colleranesco e Pagliaccetti, scuole chiuse per controlli dopo il terremoto. Cronaca, sempre a Giulianova, trovato in possesso di Coca e Ascish, 39enne Giuliese finisce in manette. Settimana corta anche nelle scuole del Lido, decisione deliberata dal Consiglio di Istituto che si è riunito martedì scorso. Silvi, primo esposto contro la pista ciclabile, presentato dai sei balneatori per la cancellazione della strada utilizzata come parcheggio dai turisti. Pineto, rubate alcune divise del ruzzo, allarme per possibili truffe. Pineto, ancora assalto con la betoniera al distributore di benzina, danni per 10 mila euro alla stazione Kuwait di Villa Fumosa, ma il colpo è fallito. A Roseto, consiglio rovente su funivia all'erta neve, la maggioranza di Girolamo rifiuta la proposta di Nex e Marcone sul collegamento con Monte Pagano. L'ANAS investe un milione sempre a Roseto, iniziati in tempi record i lavori per riasfaltare la statale adriatica. Silvi, sinistra italiana, chiede le dimissioni dei vertici Enel, presentata la mozione da discutere durante il prossimo consiglio comunale. Ed ora, velocemente, torniamo al messaggero per vedere la pagina dedicata allo sport, Abruzzo Sport in apertura Pescara, obiettivo Mandragora, tutto fatto per Cristante all'Atalanta, il Benfica lo libera e i biancazzurri andrà un indennizzo. Cubas e Muntari ok, dopo la frattura del quinto metatarso e i sette mesi di stop, il centrocampista ha detto che il Delfino sarebbe la prima scelta. Il notiziario, Rebus attacco, Baebec febbre e Gilardino è più no che sì. Vediamo un'eccellenza, l'angolana stende De Francavilla campionato riaperto ieri il recupero di sei partite. Ancora nella pagina successiva Lega Pro Teramo su Barbuti Perna in stand-by stretta finale sul 24enne attaccante del Lumezzane che potrebbe già essere disponibile per Modena la maceratese blocca il terzino. Ed ora la serie D vediamo San Nicolò travolto dalla carrozzata a Fermana 3-0 serie D ancora Colpaccio Pineto si impone a campo basso vittoria salvezza e poi in alto vediamo promozione un Rea Giulianova da incubo perde per 3-2 ma nel primo tempo dopo essere andato sotto di due gol ha rischiato di prendere altre tanti ancora altri dopo che Di Paolo aveva appunto accorciato le distanze e con questa notizia e quindi con le pagine dedicate allo sport termina la nostra rassegna stampa l'appuntamento con mattino 6 torna domattina puntuale alle ore 7 grazie per l'attenzione e buon proseguimento a l'attenzione a a